Ciao, benvenuti a questo nuovo allenamento! Allenamento per farti dimagrire, tonificare e snellire il tuo corpo. Se non hai ancora fatto, lascia subito il tuo like e attiva il campanello per ricevere tutte le notifiche, così che saprai ogni volta che io faccio un nuovo video, ok? Primo esercizio che faremo oggi è un affondo. Se sei ancora principiante, fai questo movimento solo andando giù e su, ok? Tieni il tallone dietro sollevato e il ginocchio allineato con la caviglia. Se sei già allenata, vai giù, apri, chiude e ginocchia. Scendi, infuori, torna, ginocchia. Faccio così di fronte, così, guardi bene. Uno, due, tre, quattro, ok? Bello, vero? Questo è bellissimo, tonifica tutta la gamba e glutei. Che meraviglia! Esercizio numero due. Vai giù e fai un tricipiti. Lascia le mani abbastanza chiuse vicino al tronco. Vai semplicemente giù e su, così, ok? Fai attenzione a non tenere in alto i glutei perché non è questo il movimento. Ma scendi, piego e allungo le braccia. Se sei principiante, fai lo stesso esercizio e riposati ogni volta che hai bisogno, ok? Bravissima! Esercizio numero tre. Torni su in piedi e fai l'affondo con l'altra gamba. E per concludere poi faremo un plank dove ti giri e torna. Gira e torna. Se sei principiante, stai semplicemente qua, così, e riposati ogni volta che hai bisogno. Pronta per il riscaldamento? Oh, yes! Un bel respiro su, espira, vai, su bene le mani, espira fuori l'aria. Questo è l'ultimo, allungo bene verso l'alto, allungo, allungo, allungo da un lato, cambio, vai, tira, tira, tira dall'altro, apri le braccia e muovi le spalle. Fai subito un bel sorriso perché finalmente ti sei fermata e hai preso il tempo per te. E qui bisogna festeggiare! Vai, muovi dentro, dietro le spalle, riscaldiamo bene, alterno. Uno, due, un movimento ampio, guarda. Hop, hop, hop. Vai, uno, due, uno, così, brava, vai, 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 cambio, qua, su, 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 ehi, vai, vai, ancora. Uno, due, uno, due. Hop, hop, hop. Solo polsi qua, giro, 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 si prepariamo perché dopo ci sono i plank, nell'altro senso, vai, 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 così, brava, tre, due, gamba qua, giù, 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 vai, guarda, scendo, 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 scendo. Vai, bravissima, ancora, quattro, e tre, così, due, bravissima, ok, gamba, dietro, 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 vai, uno, due, hop, hop, piego le braccia, vai, respira, hop, 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 superman. In solo braccia, vai, 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 su, 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 ancora, hop, 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 brava, vai, 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 ok, vai così, diagonale, avanti e dietro, respira, muovi le braccia, Vai, 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 avanti, dietro, avanti e sul ginocchio, vai, su, e su, vai, su, e su, vai, vai, quattro, e tre, così, due, respira. Allora, piccolino qua, su, 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 ancora, su, muovi i bracci, muovi le gambe, vai, quattro, tre, due, vai, di là, di là, hop, e hop, vai, hop, sulleve il ginocchio, vai, e, avanti, dietro, Avanti, muovi bene le braccia, vai, perfetta, piccolino, su, 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 ancora, vai, 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 su, 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 molto bene, sul posto, corsettina così, veloce, vai, Vai, tallone dietro, vai, 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 cambio, giro subito, ok, ci siamo, partito, vai, scendo, apro laterale, torno, su, uno, due, tre, su, così, tutto qua. Se sei principiante, stai solo qua, così, ok, già finito, andiamo giù e facciamo i tricipiti, ti ricordi? Vai, scendo, 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 hop, vai, hop, fuori l'area, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, stop. Bravo, brava, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, l'altra gamba, vai, scendo, apro un pochino, ritorno, su, scendo, apro, torno, su, uno, due, tre, e quattro, vai, 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 Bello, vero? Senti già come il tuo corpo comincia a rispondere, comincia a sentirti bene, nella fatica ci si sente bene, Alla fine dell'allenamento, ti senti già più bella, più forte, più tonica, più tutto, vero? Eh, lo so che è vero, da capo, primo giro è già andato, ti rendi conto della velocità? Ah, eh, vai, vai, su, ci vuole poco, eh, per tonificare, per dimagrire, se il tuo obiettivo è solo tonificare, avere un fisico tonico e snello, Non è più necessario stare ore, 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 ad allenarti, così a casa tua, in 20 minuti hai fatto tutto, vai, fuori l'aria, quando vieni su, stop, brava, Hai fatto tutto nel senso che 20 minuti bastano per attivare il tuo metabolismo, per fare un lavoro intenso di tonificazione, per aiutarti a dimagrire, bastano 20 minuti! Non è magia, finita sta storia di dire che non hai tempo per allenarti, eh, vai, vai, giro, hop, giro, vai, giro, hop, giro, vai, Fuori l'aria, vai, fuori l'aria, vai, stop, e non ci crederai, ma questo è già l'ultimo giro! Vai, uno, due, tre, su, uno, due, tre, vai, hop, 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 su, uno, due, tre, stop, perfetto! Vai, 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 vai! Coraggio! Abbasso i glutei, vai, giù, spinge, giù, spinge, vai, gomiti chiusi e forza, scendi, vai, 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 giù, su, stop! Penultimo esercizio! Mi giro, vai, uno, due, tre, sul ginocchio, scegli, giro, vai, su, bravissima! Respira, respira, vai, hop, hop, stop! Brava, perfetto! E già l'ultimo, eh? Ti rendi conto, come passo il frutto, vai, respira, vai, forza, vai, giro, hop, vai, e giro, stop! Sei bravissima! Brava, 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 complimenti! Apri le ginocchia e vai giù col tronco, cammina lontanissimo con le mani, allunga, allunga bene così! E nota come stai bene! Che magia! Rimani così, allunga! E nota come il tuo corpo ti ringrazia! Di questo lavoro, di questo allenamento veloce, ma importante! Vai, allunga così adesso, lascia i taloni a terra, il palmo delle mani a terra, spinge il petto verso il pavimento! Respira, bravissima! Piega le ginocchia, cammina con le mani verso i piedi, e poi allunga le gambe, lascia giù le mani, respira, senza molleggio, stai lì! Ferma nella posizione, gambe belle tese, vai! Respira, se le mani non toccano non fa niente, vai fin dove riesci e rimani! Ora, inspira, fuori l'aria, abbraccia le gambe, e avvicina il petto alle cosce! Vai, gambe tese, schiena dritta! Piega le ginocchia, srotolando il tronco, torna su piano, piano e piano! Brava, brava, brava! Lascia il tuo like su questo video e attiva la campanella, così ogni volta che io faccio un nuovo allenamento, tu lo saprai, va bene? Ok, brava! Adesso allunghiamo quadricipiti, perché l'allungamento è importante, abbiamo lavorato con le gambe, quindi allunghiamo! Abbiamo già allungato la parte posteriore, adesso allunghiamo anche la parte anteriore, quadricipiti, apri il petto, avvicina le gambe, fai un sorriso! Respira! Bravissima! Cambia la gamba, piedi a terra, vai! Così! Molto bene! Perfetto! Piedi a terra, allunghiamo la spalla, giro laterale, ginocchia rilassate, abbassa bene la spalla, sguardo laterale! Sempre respirando, molto bene, cambia, vai dall'altra parte, allunga, bassa la spalla! Ok, perfetto! Appoggio la mano, sguardo a terra, e rilasso così! Molto bene, appoggio la mano dall'altra parte, sguardo a terra, senti allungare, respira! Così! Bravissima! Rilassa le spalle e complimenti, eh! Complimenti davvero per essere qua, per aver preso il tempo per te! Molte donne vogliono, sanno che devono allenarsi, prendere cura del proprio corpo, dimagrire, vogliono tonificare, ma non riescono a organizzarsi per prendere così 20 minuti per fare attività fisica! Quindi, brava te! Vai, un bel respiro, fuori e su, espira, questa è l'ultima, vai su, avvicina, braccia, gambe, fai un bello inchino in avanti e grazie mille! Sei bravissima!